Veniamo ai casi di cronaca, visto che le ha tirate in ballo. Io sono perfettamente d'accordo con il collega Cifarele ancora una volta sul fatto che non si può, quando c'è un episodio di cronaca, cercare di intervenire, sforzandosi di fare in modo che il provvedimento risulti in qualche modo astratto e che non riguardi una determinata categoria per poi fare tutt'altro e quindi fare una legge che va nella direzione di un'emergenza e di un caso di cronaca che si è venuto a verificare. Però io non so se il collega Cifarelli ricorda, se gli ricordi l'articolo 122 della legge 165-2004. Detto così è complicato, adesso se vuoi te la rendo più semplice la cosa, che è una delle prime leggi che abbiamo votato in quest'aula, alla quale io, il collega Leggeri e Romaniello abbiamo votato contro, che è una legge che cerca in qualche modo di evitare problemi alla nuova consigliatura a causa del famigerato caso di cronaca, Cifarelli, denominato e meglio conosciuto come rimborsofo. In quel caso lì non c'erano psichiatri, non c'erano infermieri, non c'erano persone che portano le barelle, che ora non mi sovviene il termine, gli operatori, gli OS, gli operatori sociosanitari, non c'erano quelle persone da tutelare, ma c'erano altre persone da tutelare e che erano quelle che componevano il Consiglio, non tutte ovviamente, ma quelle che erano stati toccati da questo caso di cronaca. Allora io dico, in quel caso lì, che cosa è stato fatto? Non è stata fatta la stessa cosa, o solo perché interessava determinate persone che sono qua nel Consiglio e che stanno nella maggioranza, allora si potevano fare determinate cose e oggi non si possono fare. Allora per essere coerenti, Cifarelli, io ti invito a fare una cosa, però chiaramente ovviamente tu sei sempre autonomo, puoi fare quello che vuoi. No, ti invito a votare a favore anche in questo caso, perché saresti più coerente, siccome l'hai fatto già in passato, che hai votato a favore di una PDL, come? Ti ringrazio per il suggerimento, ma non lo accetto, lo dico già qua, che questo suggerimento non lo accetto, ti ringrazio comunque per il pensiero. Comunque, quindi, allora a questo punto, avendo già in qualche modo votato un provvedimento che era relativo a un caso di cronaca e che in qualche modo puntava, mirava a salvare, tra virgolette, determinate persone, può tranquillamente, non si deve fare scrupoli, se è quella la motivazione, lo può votare tranquillamente, può votare a favore. Se poi ci sono altri motivi, altre cose, sinceramente a noi più di tanto non interessa, poi sarà, diciamo, sua cura volerci informare se ci sono dei retroscena, qualcosa che ci sfugge, diciamo, ci potrebbe poi far capire un po' meglio come gira la politica da queste parti. Io avrei finito, quindi confermo ancora una volta, anche io, oltre al collega Leggeri, che noi non partecipiamo al voto di questa PDL, perché secondo me questa PDL non esiste. Grazie, consigliere Perrino. Allora...